Il mondo in una giostra di colori E il vento accarezza le bambiere Arriva un brivido e ti trascina via E sciogli in un abbraccio la follia E negli occhi tuoi Voglia di vincere Un'espaglia Un'avventura in più Buonasera, questo è dunque il nostro in bocca al lupo alla nazionale Avete visto la copertina realizzata da Mario Foglietti e montata da Sergio Frattini Dunque questa grande attesa per la finalissima dei mondiali Le speranze di farcela con il Brasile Ne parleremo a lungo naturalmente nel corso di questo giornale Ma prima le notizie che arrivano dal fronte politico si impongono C'è una dura presa di posizione del Presidente del Consiglio Berlusconi Che ha posto al Ministro dell'Interno Maroni Una secca alternativa O smentisce le dichiarazioni sull'imbroglio che avrebbe subito in Consiglio dei Ministri O si dimetta Le dichiarazioni di Maroni afferma Berlusconi Non corrispondono al vero Costituiscono offese pretestuose al Consiglio dei Ministri e al suo Presidente L'Italia, aggiunge Berlusconi, è una Repubblica Costituzionale E le dimissioni si presentano a chi dirige il Governo Non al proprio partito I riti tribali della vecchia partitocrazia non sono più ammissibili Dice Berlusconi Poi nel pomeriggio l'attesa conferenza stampa di Bossi Prima della riunione del Consiglio federale della Lega A cui Maroni ieri ha rimesso il suo mandato Ci racconta tutto Marco Fritella Umberto Bossi si presenta di fronte ai giornalisti Già da un'ora le agenzie hanno Ministro leghista Maroni O smentisci Oppure te ne vai E se te ne vai le dimissioni le presenti a me Presidente del Consiglio e non al tuo partito Bossi ci mette un po' a decidere quale risposta dare Si vede a quattro occhi con Maroni E appunto alle 18 passate si presenta in conferenza stampa Sta attento a non esasperare i toni della risposta Ma non vuole fare neanche lui marcia indietro E dice in sostanza Il governo ritiri il decreto e presenti un disegno di legge Maroni non si deve dimettere Se Berlusconi cercasse scuse per andare alle elezioni anticipate Dando la colpa alla Lega Sappia che la Lega si opporrebbe Se Berlusconi, se il fine ultimo fosse Io dico fosse, uso il congiuntivo Non sono certo Fosse quello di arrivare ad elezioni anticipate Creare le condizioni di rottura del governo Dico, lo dica chiaramente Maroni, io mi aspetto che non si dimetta affatto E beh, Berlusconi eventualmente Se vuole dimettersi lo faccia lui Lo farà lui in aula Se proprio vuole andare alle elezioni anticipate Vuol dire che in aula Allorché non passa questo decreto Allorché gli verrà chiesto Di sostituirlo con un disegno di legge Su cui il Parlamento possa esprimersi Vabbè, lì faccia capire se vuole andare ad elezioni Si dimetta Vorrà dire che andremo ad elezioni Il Paese andrà ad elezioni Sapendo che il motivo È Su cui si rompe il governo È quello di liberare Quello della liberazione E degli uomini di Tangentopoli Dalle carceri Mossa e contromossa Nel governo e nella maggioranza La fibrillazione è al massimo Tanto più che più d'uno Si alza per chiedere Una immediata verifica politica Il caso del ministro Biondi Che scrive una lettera a Berlusconi Per chiedere un chiarimento politico immediato Che deve avvenire, dice In consiglio dei ministri E nei confronti di Scalfaro Che ha firmato il decreto E Fini ora parla di Pericolosa tensione nel governo Invita Berlusconi ad allentarla Come? Prenda atto Che così com'è Il decreto ormai In Parlamento non passa più Ecco abbiamo scritto quindi La cronaca di questa giornata Ma come vedete alle mie spalle Abbiamo in diretta da Milano Umberto Bossi Allora buonasera Bossi Senta che cosa avete deciso In consiglio federale Ancora pieno sostegno a Maroni Ancora no a questo decreto Oppure avete preso decisioni più radicali? No abbiamo deciso Quello che hanno già deciso Tempo fa Un decreto come questo Non può essere sostenuto dalla Lega Di più Non può essere sostenuto Innanzitutto perché Viene presentato sotto forma di decreto E noi fin dall'inizio Avevamo sottolineato La necessità di non trattare materie Come la giustizia Come gli affari costituzionali Come Con uno strumento così potente Di effetto immediato Come il decreto Che se poi non viene approvato Dal Parlamento Insomma Bisogna ritornare Bisogna rimangiarsi Tutto quello che è stato fatto È una vecchia abitudine Invalsa nel nostro paese Ed è una vecchia lotta Questa della Lega Contro la decretazione d'urgenza Il vero imbroglio Secondo me Sta proprio lì La Lega Fin dall'inizio Ha sostenuto Che si poteva usare La via del disegno di legge Che si doveva usare La via del disegno di legge Apprendo una corsia preferenziale E poi Nel Parlamento Per avere in tempi brevi La scelta del Parlamento In merito Diciamo A questa materia Senta Bossi Ma lei ha detto Che tutto ciò Sarebbe accaduto Per una sorta di strategia Che mira ad arrivare Appunto da parte di Berlusconi A nuove elezioni Che la Lega Non si fa Per così dire Incantare Da ipotesi avventuristica Ma non pensa Che questo suo atteggiamento Crei ancora maggiore tensione All'interno della maggioranza Ma io non lo so Non è il nostro atteggiamento Che crea maggiore tensione Noi garantiamo la governabilità E riteniamo Che non si debba andare Ad elezioni Non abbiamo mai chiesto Elezioni politiche anticipate Qualche alleato sì Qualche alleato Lo sottolinea troppo spesso Facendo venire meno Quindi i presupposti Della governabilità Allora Io non penso Che dietro Che sia un'esca Tutto quanto sta avvenendo Per riuscire Per rompere il governo Anche perché Maroni Non si dimette Dovrebbero Farli Dovrebbero dimettersi Altre persone In Parlamento E non penso che Si possa andare A votare O comunque Ci sia chi ha interesse Da andare a votare Diciamo Presentandosi Presentando Le nuove elezioni Come la necessità Una necessità Perché è venuta O meno la governabilità Per salvare Gli uomini Senta Bossi Senta Bossi La sta ascoltando Il ministro dei rapporti Con il Parlamento Nonché portavoce Del governo Giuliano Ferrara Che abbiamo In collegamento Telefonico Ferrara Ha sentito Quello che ha detto Bossi Buonasera Umberto Bossi L'ho sentito Perfettamente Buonasera Insomma Ferrara Come va a finire Questa storia Beh questo naturalmente Io non lo so Ma il problema Non è più A mio giudizio Né il decreto Né le elezioni Né la solidarietà Nella maggioranza Non è questo il problema Il problema È molto semplice Io sono molto addolorato Perché dedicai 4 o 5 radio Allora mi pare Che ci fosse Una specie Di veto In alto loco Verso Maroni Ministro dell'Interno A favore di Maroni Ministro dell'Interno Io ho stima personale Per Maroni E non riesco A decifrare A capire il suo comportamento Maroni ha definito Il decreto Ingiusto Ma necessario Ora In questo giudizio Che Maroni Ha dato a caldo Subito dopo il varo Del decreto Quando montavano Le prime proteste Chiunque Riconosce La verità Quando tu dici Ingiusto Ma necessario Vuoi dire Beh È un decreto Duro Difficile Da mandar giù Perfino Per chi lo emana Perfino Per noi Che lo abbiamo Approvato Comporta Alcune ingiustizie O cose Che vengono sentite Come ingiustizie Dall'opinione pubblica Tuttavia Tuttavia è necessario Perché Della carcerazione preventiva Si è fatto abuso Questo era il senso Del suo giudizio iniziale Allora che dopo due giorni Da quel giudizio Venga a dire Mi hanno Surlupinato Mi hanno Imbrogliato E senza nessuna base Di fatto Dica una cosa del genere La base di fatto Te la do io La base di fatto Prego Grazie Bossi Allora Presso il timer Che è un nostro Ufficio a Roma Che segue Esattamente Questi lavori Ho rintracciato Il testo Di 15 articoli Un articolato Costituito Da 15 articoli Della prima forma Di decreto Che è completamente Molto differente Rispetto Al testo Presentato Da ultimo Quindi E' chiaro Che Ma scusi Onorevole Scusa Fammi finire Un attimo Sì Ma fammi finire Un attimo Per favore Cittadini Il problema E' che sappiamo Tutti Che in consiglio Dei ministri Lì Sui due piedi Uno non può Confrontare Verificare Se l'articolo Tal dei tali Coincide Col furto Con cosa E' chiaro Che battendo La via Della decretazione D'urgenza In materie Così delicate Come la giustizia Si pretende Che sui due piedi Uno dica Sì o no Con la conseguenza Che abbiamo Abbiamo visto adesso Con la conseguenza Che il giorno dopo Va a verificare Tutti gli articoli E scopre Che è un'altra cosa O comunque È più ampio Di quanto Non gli fosse dato Pensare Non è che nasce la posizione Se ha detto Ingiusto Ma necessario Vuol dire che Il testo Dell'articolato Di legge Maroni Lo aveva letto E anche Ben digerito Ma secondo me Ma secondo me No Scusa Io ho chiesto Maroni Io voglio dire Una cosa Va bene Ferrara Ma Mi scusi Mi scusi Ferrara Ma io le volevo Chiedere questa Allora delle analisi Una cosa Brevissima In questo momento Mi domando Cosa intende fare Il ministro Maroni Perché se io Dico che Lavoro con degli Imbroglioni E che nel governo Di cui faccio parte Ci sono degli Imbroglioni Dopo averlo detto Mi dimetto E credo che Chiunque ci ascolti Pensa come me Che se uno dice Quelli lì sono Degli imbroglioni La prima cosa Che si fa dopo È dimettersi E andarsene Altrimenti Nasce il legittimo Sospetto Che l'imbroglione È chi accusa Senta Ferrara Mi pare un discorso Sofistico Ferrara Mi scusi Ma mi pare Che Maroni Non sia a questo punto Anche l'unico Problema Anche Fini Questa sera Diceva Berlusconi Deve allentare La tensione E in questi giorni Aveva espresso Qualche perplessità Su questo decreto Con Fini Non c'è nessun problema E non c'è nessun problema Neanche con Bossi Il quale Ha calibrato Le sue posizioni Politiche Sia Fini Sia Bossi Sulla base Di ciò che accadeva Nel paese In conseguenza Del decreto E molto onestamente Molto lealmente Per esempio Fini ha detto Beh ostia Di Pietro Si è proclamato contro Ha fatto un appello televisivo Bisogna tener conto Di questo fatto Non sono mica Due pretori Di campagna Sono il pool Di mani pulite Quindi mettiamoci intorno A un tavolo Modifichiamo il decreto Ma su questo Ne Berlusconi Ne il sottoscritto Nessuno Neanche Biondi Ha detto Il decreto È come le tavole Della legge Il decreto È come i sette comandamenti Ferrara È una legge È una legge Come le altre Si può cambiare Ma quello Che è intollerabile È l'accusa Di turnupinatura Rivolta Ripeto In circostanze Che purtroppo Fanno sospettare Che il turnupinatore In questo caso Non è affatto Né il Presidente Del Consiglio Né il Consiglio Dei Ministri Ma chi accusa Di imbroglio Di altri Ferrara Ministro Ferrara Mi scusi Lei come portavoce Del governo In chiusura Ci sarà crisi O no? Guardi Siamo sull'orlo Di una crisi Di governo Su questo Non c'è alcun dubbio Spero che si riesca Ad evitarla In zona Cesarini Per usare Il linguaggio sportivo Caro Credo Stasera A tutti gli italiani Bene Ma mi pare Che i problemi Di italiani Questa sera Siano anche Un attimo Più Gravi Io intanto Devo chiudere Scusate Non dico Un attimo Più gravi Signora Busi È molto brutta L'espressione Un attimo Più gravi Gli dice Molto più gravi Grazie Ministro Ferrara Grazie a Bossi Andiamo intanto Avanti Il decreto Intanto Continua a suscitare Reazioni sia Nella maggioranza Sia Nelle opposizioni Sentiamo Cesare Pucci Decreto Decreto da trasformare In disegno Di legge Norme Sul carcere Prima del processo Comunque Da rivedere Ma come A discuterne Duro Il PDS A questo punto Dice un comunicato Della segreteria Di botteghe oscure La strada Più lineare È l'immediato Rigetto Del decreto Da parte Del Parlamento Per i popolari La Iervolino In calza La contesa Esplosa All'interno Della maggioranza Conferma L'avventatezza Del passo Compiuto Dal governo Scegliendo La via Del decreto Discussioni Anche All'interno Della maggioranza I cristiani Democratici Insistono Per la convocazione Di un vertice Dice Casini Dopo le incredibili Dichiarazioni Di Maroni È urgente Una verifica Le dichiarazioni Di Maroni Per costa Dimostrano L'insufficienza Nella maggioranza Di vera cultura Di governo Pannella Non ha dubbi Berlusconi Deve scegliere Aumentando Il peso Dei riformatori Nella maggioranza Da Taradash Un invito A Maroni A non dimettersi E alla Lega Perché scelga Se schierarsi Col partito Delle manette Egemone Nella sinistra Progressista O diventare A pieno titolo La Lega Delle libertà E con una nota Di ramata Nel pomeriggio Il Ministero Di Grazie E Giustizia Ha fornito I dati Aggiornati Sulle scarcerazioni Le persone Uscite dagli istituti Di pena Per effetto Del decreto Biondi Sono finora 1165 124 Quelle accusate Di reati Contro La pubblica Amministrazione La nota Ricorda Che nel nostro Paese Su 56.000 Detenuti Ben 31.000 Sono in attesa Di giudizio Allora Arriviamo a parlare Di questi mondiali Enrico Sacchi Non finisce mai Di sorprendere Secondo alcune Indiscrezioni Alle 21.30 Ore italiane Allo stadio Rosboldi Pasadina Scenderanno in campo Dal primo minuto Sia Baresi Che Roberto Baggio Questa quindi Dovrebbe essere La formazione Che affronterà Il Brasile In porta Pagliuca Difensori Mussi Baresi Maldini Benarrivo Centrocampisti Berti Albertini Dino Baggio Donadoni Attaccanti Roberto Baggio E Massaro E ci colleghiamo Subito con Bruno Scusate Pizzul Da qui sentiremo Tra poco Appunto La tenecronaca Della partitissima Italia Brasile Pizzul Mi senti? Senti Sento Buongiorno Da Rosbol Buongiorno Allora Confermi la formazione Che abbiamo appena dato Con Baggio Baresi in campo? Allora Baresi è confermato Giocherà sicuramente A 23 giorni Dall'intervento chirurgico Subito al ginocchio Per quanto riguarda Roberto Baggio Le nostre notizie Non sono così certe Come le vostre Noi siamo ancora in dubbio Si deciderà All'ultimo momento La formazione ufficiale Non è ancora stata comunicata Pare che Roberto Stamattina Tanto il rumore Che sentite Ed è terminato Dal passaggio A bassa quota Di jet Dell'aviazione militare Degli Stati Uniti In corso La cerimonia Di chiusura Che precede La disputa Della finalissima Quindi Siamo ancora In attesa Di sapere Se Baggio Di questa quindicesima edizione Del campionato del mondo Una finalissima Che conclude In maniera straordinaria Questo mondiale americano L'alta aristocrazia Del calcio mondiale Di fronte Brasile contro Italia Va bene Pizzul Grazie Ti ascolteremo Ti ascolteremo naturalmente Più tardi Con grande emozione Dunque una domenica Di tensione Di attesa Quella di oggi In ogni angolo di strada In tutta Italia Come potete immaginare Non si è parato Altro che di calcio Della speranza Che la nostra nazionale Faccia il poker Nella Coppa del mondo Il traffico In direzione Del grande città Si è intensificato Nelle ultime ore Quindi grandi aspettative Certo ma Questo Brasile È davvero un osso duro Anche i brasiliani Alla Coppa del mondo Ci tengono E come forse Ancora di più Ok siamo andati al mare A trovare suoceri E nonni Ma adesso basta Via tutti in macchina Fra poco più di un'ora L'Italia Ha un appuntamento Con la leggenda 4 a 0 Per l'Italia Baggio 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 Balsberti Brasile no Deve verde Dobbiamo vincere Disegna Baggio Anche gli stranieri In visita nel nostro paese Ci dimostrano Molta simpatia Qualcuno però Non è d'accordo 4 a 0 Per chi? Per Brasile 4 di Romario 4 gol di Romario Tu da dove vieni? Eh? Da che paese vieni? Eh? Da Spagna Eliminata dall'Italia? Sì Betto chiamo ferro Ma per scongiurare Il peggio Forse è meglio Una benedizione Che l'Italia Possa vincere Proprio Con abbondanza Perché se lo merita Tutti i sacrifici Che hanno fatto Questi nostri giocatori I signori I signori li assista Li benedica E possono portare Qui in Italia Quella gioia Di essere vittoriosi E i brasiliani? Sostengono la loro squadra Naturalmente Pregustando una notte Di festeggiamenti Ma se il Brasile Ti perdesse Se Italia vince Facciamo una festa Lo stesso Per dimenticare Torneremo tra pochissimo A parlare Di Della Un'attività Del giorno Una nuova fiammata Di violenza In Medio Oriente Battaglia Ad Erez Alla frontiera Tra Gaza Ed Israele Tra la folla scatenata Dei pendolari Palestinesi I soldati israeliani E gli agenti Palestinesi Appunto Si sono scontrati Fino ad ora I morti sono due I feriti Più di 70 Sentiamo Giovanni Bocco A folla Inferocita Ed avvilita Dei pendolari Palestinesi Si ribella Ore di fila Ogni mattina Controlli estenuanti Sotto un sole Implacabile Ad un certo punto Poco dopo le 7 Uno scoppio Di rabbia Isolato Un palestinese Strappa di mano Il fucile Ad un agente E comincia a sparare Ed improvviso Divampa la rivolta Esplodono le frustrazioni Sopite Un retroterra sociale Fatto di miseria Disoccupazione al 60% Rompe gli argili Centinaia Migliaia Di palestinesi Molti senza permesso Travolgono la loro polizia E vanno all'assalto Degli israeliani Che si ritirano E si difendono Con i lacrimogeni E sparando pallottole di gomma E poi Dicevano rinforzi Secondo la radio israeliana La polizia palestinese Ha sparato Sia sui dimostranti Che sui soldati Di Gerusalemme Fra i feriti Alcuni agenti palestinesi E 17 israeliani Uno è grave La frontiera È stata nuovamente chiusa Divampano subito Scontri Anche a Napoli Serramalla L'impennata Della violenza Avviene alla vigilia Di una nuova missione In Medio Oriente Del segretario di stato americano Christopher E dell'avvio Delle trattative dirette Tra Giordania ed Israele Domani In una località Sulla sponda giordana Del Mar Morto Prima dell'incontro Tra Re Usain E il premier Rabin Il 25 prossimo A Washington E le indagini Sulla strage Di Via D'Amelio Di due anni fa A Palermo Uno dei killer Del giudice Borsellino Dei cinque agenti Di scorta Si è pentito Da almeno Dieci giorni Ha confermato poco fa Il suo avvocato Vincenzo Scarantino Collabora con i giudici Sentiamo Giuseppe Grapanzano Nella più assoluta Segretezza Vincenzo Scarantino L'uomo chiave Della strage Di Via D'Amelio Parlerebbe Da settimane Con i magistrati Della direzione distrettuale Antimafia di Caltanissetta Oggi L'improvvisa fuga Di notizie I giudici Sconcertati Non confermano Ne smentiscono Ma scatta l'allarme Perché il riservo Attorno al pentimento Dell'ex picciotto Della cosca mafiosa Della guadagna Di Palermo Che portò L'auto imbottita Di Tritolo Sul luogo del massacro Del giudice Borsellino E della scorta Era stato garantito Tanto che Scarantino Fino a ieri mattina Si trovava in cella Nel carcere di Pianosa Dove ha incontrato Uno dei suoi avvocati Mario Zito E la moglie In queste ore Si stanno organizzando I sistemi di protezione Per l'imputato E per i familiari Scarantino Che per la strage Borsellino È stato già rinviato A giudizio Insieme ad altre tre persone Procedo Alcuni mesi fa Fu ricoverato Nel centro clinico Penitenziario di Pisa Per un'ulcera Potrebbe aver iniziato Proprio allora Il suo racconto Riempendo Centinaia di pagine Di verbali Sulla fuga di notizia Che il procuratore Aggiunto di Caltanissetta Paolo Giordano E il sostituto Della direzione nazionale Antimafia Pietro Grasso Hanno giudicato Pericolosa Scatterà immediatamente Un'inchiesta I primi tre frammenti Della cometa Schumacher-Livai Si sono schiantati Su Giove In una nuvola Di fumo E di fiamme Il gigantesco Pianeta Sembra aver retto Bene Ma da domani Arrivano i frammenti Più grossi Sentiamo Beppe Brevelieri Puntuale e precisa La cometa Schumacher-Livai Punta su Giove E comincia a tormentarlo Con i suoi frammenti I primi tre Che simili A proiettili dirompenti Esplodono nell'impatto Con una potenza Centomila volte superiore A quella di una bomba H In una nuvola Di fiamme E di gas Gli scettici Che parlavano Dei frammenti Della cometa Come di una modesta Raffica di palini Da caccia Sono stati Clamorosamente smentiti L'osservatorio astronomico Di Sutherland In Sudafrica Che possiede la telecamera Di infrarossi Più potente del mondo Ha registrato Fiammate Della durata Di una ventina di minuti E Hubble Il telescopio spaziale Ha inviato immagini Di queste prime ferite Di Giove Estese quanto la metà Del diametro della Terra Gli astronomi Sono certi Che nei prossimi giorni Avremo dati Ancora più sorprendenti Perché I primi frammenti Che colpiscono Giove Sono tra i più piccoli Tra questa notte E domani Il gigante Che pare abbia assorbito Molto bene Queste prime botte Potrebbe essere raggiunto Da uno dei frammenti Più grandi Dieci volte Quelli già caduti Con un diametro Di qualche chilometro Un altro elemento Inaspettato È quello della consistenza Dei frammenti Della cometa Non solo gas Ghiaccio E pietrisco E pietrisco Come ci si aspettava Ma qualcosa Di più resistente Per questa ragione I primi frammenti Non si sono dissolti Quando sono entrati Nell'atmosfera di Giove Ad oltre 200.000 km l'ora Manteniamo le promesse Parliamo nuovamente Del mondiale di calcio Dopo aver visto L'attesa In Italia E in Brasile Il nostro inviato A Los Angeles Ci racconta Il clima Nella città californiana Nel clan azzurro A poche ore Dall'incontro Donatella Scarnati Los Angeles Non è indifferente Si prepara Ad ospitare La finale Della coppa del mondo Come una padrone Di casa Attentissima Se New York Ha mantenuto Fino alla fine Nei confronti Del calcio Un distacco Che però È tipico Di questa metropoli La California Vive l'avvenimento Con entusiasmo Si adegua Le euforie della gente Che qui per Italia Brasile America Il paese Delle contraddizioni Delle esagerazioni Ma ricordando Oscar Wilde Nulla più successo Dell'eccesso E così questa realtà Ti attrae Come una Quadra che hanno Proclamato il bel gioco Cercando di non deludere Le aspettative dei tifosi Non è stato facile Ma non si può dire Che i rispettivi tecnici Non abbiano fatto Tutti gli sforzi possibili Per imporre Una propria filosofia Abbiamo lavorato tanto In questi tre anni E duramente E non ci pensiamo Proprio minimamente Di arrendersi adesso E un sacco aggressivo O meno ermetico Concede i suoi pensieri Evitando di nascondersi I giocatori sono tranquilli Quisà se si rendono conto Che stanno sfiorando Qualcosa di grande Di molto grande Una cosa che forse Visto che siamo Lontanissimi dall'Italia Magari non ci rendiamo Conto ancora Al cento per cento Sicuramente sarà Decisivo il risultato Nella finale Poi Se dovessimo Se dovessimo Andare bene Sicuramente Entreremo nella storia Sì sappiamo che Vincendo magari Si può rimanere nella storia Però Ci c'è anche la possibilità Di Di sciupare tutto Diciamo che Se arrivi secondo Alla fine Non hai fatto niente Quindi sappiamo Che dobbiamo vincere A tutti i costi Per Per regalare una gioia A tutti i nostri Nazionali Soprattutto Per aver conquistato Qualcosa di concreto Allora Saranno 90 minuti Di tensione Chissà Pensiamo forse di sì Ma che cosa prova Un tifoso davanti Ai teleschermi Assistendo ad una finale Mondiale Quali sono le vere sensazioni A questi interrogativi Ha provato a rispondere Il nostro Pierangelo Piegare 90 minuti Adesso Tutti per noi È un barattolo Pieno di giochi E di sogni Palline colorate Ali di farfalle a pezzi 90 minuti Come una tavola imbandita Su stoffa A quadretti Bianche e blu C'è un piatto di spaghetti La filosofia dell'essere Una bandiera Che aspetta il vento Un corno rosso 90 minuti Finalmente insieme Per correre Verso una sola stella La stessa Nel cielo Di questa vita Che confonde le luci E spegne l'amore In gola E nei pressi del cuore Quell'urlo pronto Del gol Gioia che esplode E cancella per un attimo Dal tempo Quell'incubo perenne Della sconfitta Che graffia dentro Ogni giorno Liberi per incanto Da una schiavitù 90 minuti Col pressing nel cuore E gioia Non felicità Questa è bella Impossibile Troppo nobile Per costare un gol Ma va bene lo stesso Bianco Rosso E verde E poi azzurro Diversi ma uniti Nel segno Di una vittoria per tutti Finalmente Sotto una sola bandiera La squadra Che corre E suda E un gabbiano Che ti porta in volo E guai se si ferma Baggio Sacchi Maldini Damare e odiare Fra indifferenza E esagerazione Cattivi con la sconfitta Troppo buoni per un gol 90 minuti di debolezze Coriandoli su un prato verde La voglia di staccare dal cielo Una stella E correre Correre Per poi fermarsi E ricominciare Una vittoria Una coppa Uno sfizio Una paura dimenticata Ma anche solo Un bacio mai dato Grazie a quel gol Peccato Che 90 minuti così Arrivano e vanno Come comete E ci colleghiamo Con serata mondiale Alba Parietti Valeria Marini Fabrizio Maffei Allora siete pronti Siete emozionati Buonasera Buonasera Che non ci capita Un'occasione del genere Quindi ci auguriamo tutti Che l'Italia Porti a casa questo risultato Comunque tu sai Che noi dopo Tu lo sai benissimo Anzi sei anche invitata Se vuoi Dopo la partita Ci sarà comunque una festa Perché in ogni modo Vadano le cose Sarà sempre un posto D'eccezione Quello che ci stiamo guadagnando Naturalmente E l'abbiamo preparata bene Questa festa Qui non so se è possibile Già far vedere No è una sorpresa È una sorpresa Insomma ci stiamo allestendo Come avviene in pratica In ogni famiglia italiana C'è una cena Maxi schermo Insomma cercheremo Di passare questa attesa Di vivere la partita E poi Di festeggiare insieme Posso farti una domanda Tu dove la vedrai La partita questa sera? Non lo posso dire Vieni da noi Dai Ti possiamo aspettare Non lo so Forse Va bene Noi comunque aspettiamo Naturalmente tutti Vi ringrazio allora Grazie a te Ci vediamo dopo A più tardi Senz'altro Buonasera Ciao Allora Noi ci collegheremo ancora Anzi Fede la Sorsa Si collegherà dopo La pubblicità con Los Angeles Poi commenti sulla formazione Con Agropi Quindi restate qui Io vi ringrazio Per essere stati con noi E buonasera a tutti Gatorade Gatorade Alla esso C'è una grande promozione I gestori Regalano Quattro grandi opere Di Agostini Vuol dire che Piano piano Mentre cambio l'olio O faccio il pieno Esso mi riempie di regali Piano 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 pieno Vicino agli altri L'alito fresco è importante Vigorsol Il chewing gum in confetti Dal gusto forte Vi regala la sicurezza Di un alito fresco E la freschezza di Vigorsol È anche senza zucchero Se hai voglia di natura Se hai voglia di vita sana Quando hai sete Scegli Estatè Voglia di natura Sete di Estatè Ora anche al gusto pesca Estatè Bevi sano Vivi naturale Buonasera Tra poco meno di un'ora La grande sfida Le televisioni di tutto il mondo Saranno collegate Con lo stadio Rose Bowl Di Los Angeles Sono previsti Circa due miliardi Di spettatori In questo momento È in corso La cerimonia di chiusura Di questi campionati Allora ci possiamo collegare Immediatamente Con Bruno Pizzul Per sapere Quali sono le ultime unità Sappiamo già Ma comunque Sacchi ci ha voluto Stupire ancora una volta Bruno Sì in effetti Pare che Oltre a Baresi Che rientra dopo il Noto intervento Subito al ginocchio Sia della partita Anche Roberto Baggio Però io userei Tuttora la formula Dubitativa Perché a noi Qui in postazione Non sono ancora arrivate Le formazioni ufficiali Ci vorrà ancora mezz'ora Ci vorrà ancora mezz'ora Sì Il termine ultimo Per la presentazione All'arbitro È di un'ora Prima del fischio d'inizio Poi ci saranno Naturalmente I tempi tecnici Per Spilare la formazione Distribuirla Io penso che Tra una decina di minuti Non prima Sappremo se davvero Anche Roberto Baggio Oltre a Franco Baresi Sarà in campo Qui intanto Credo che lo vediate Sui vostri teleschermi E in pieno svolgimento La cerimonia conclusiva È una cerimonia Fatta Con Un certo impegno Da parte degli americani Non è una cerimonia Tradizionale Perché nelle precedenti Edizioni dei campionati Del mondo Non c'era stato Nulla di simile Comunque gli americani Vogliono concludere Festosamente Questa quindicesima edizione Mondiali Che è stata confortata Dalla presenza Di uno straordinario pubblico Sì Naturalmente Cresce L'emozione L'ansia E l'attesa Da questa finalissima Tra Brasile E Italia Bene Ti ringrazio E noi ci colleghiamo adesso Con Aldo Agroppi Dal Piombino Agroppi Ancora una volta Sacchi ci ha voluto stupire Secondo te Probabilmente Poi Ci sarà anche Qualche problema Sarà in campo Oppure no Ma Ci ha stupito Favorevolmente Perché Mettere in campo Baresi e Baggio Credo Voglia dire Aver ponderato il tutto E quindi Per noi È un vantaggio Perché goderemo Di uno spettacolo migliore Se anche giocherà Romario Meglio ancora Per i telespettatori Per i tifosi Non dobbiamo giocare Sulle disgrazie altrui Ecco Speriamo che siano Tutte e tre in campo Certo La scelta di Baresi e Baggio In campo contemporaneamente Può suonare a sorpresa Però è chiaro Che lì Non credo Abbiano fatto le cose Così Per una forma di autolesionismo Abbiano valutato Tutto quello Che c'era da valutare Certo Ti ringrazio E noi dobbiamo chiudere Qui questa edizione Grazie a tutti Per la cortesa E gentile attenzione Ovviamente L'appuntamento E tra poco meno Di un'ora Per questo incontro A tutti Buonasera Grazie a tutti